ragazzi manca pochissimo veramente 47 minuti cioè 46 prima era 47 407 miglia meno male ce la facciamo abbiamo ancora abbastanza carburante meno male adesso voglio vedere se avete capito dove andiamo non andiamo qui cioè a miami e dove possiamo andare qua in questa zona qui cioè con in questa secondo voi andiamo qui o andiamo qua scrivetelo nei commenti e poi vedremo ragazzi che dire è un posto stupendo ragazzi credo che adesso avete capito più o meno dove stiamo andando noi siamo qui dove possiamo andare una delle zone più belle dove ho detto che il mare è stupendo le spiagge sono bellissime mancano 16 minuti 132 miglia l'unico posto dove possiamo andare è qua proprio qui 16 minuti dovrebbe essere o qua o qua ve lo dico subito ragazzi andiamo a san martin l'aeroporto di san martin di princess giuliana internazionale l'aeroporto internazionale andiamo qua adesso ve lo dico subito ecco andiamo qua qui cioè proprio qua qui eccoci ragazzi stiamo per atterrare proprio dove avevo detto prima cioè a san martin l'aeroporto è qui lì vicino adesso se riesco a farvelo vedere è lì l'aeroporto è lì noi dobbiamo girare ho dovuto tagliare perché sennò era abbastanza lungo e l'atterraggio è atterraggio a vista quindi lo facciamo noi e non ci segue la torre ragazzi la pista è lì e ho messo le non metto l'audio perché mi devo concentrare tantissimo perché è un sogno atterrare qui è un sogno per me lo aspettavo da tantissimo tempo e quindi mi devo concentrare tantissimo e quindi metto le cuffie e commenterò molto poco questo atterraggio scusatemi tanto eccoci ci devono soltanto dare l'autorizzazione ad atterrare e poi siamo a posto mille piedi ragazzi è un sogno per me 900 piedi porca miseria c'è quell'aereo lì porca miseria c'è quell'aereo lì grazie 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 sono teso ragazzi sono tesissimo grazie 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 Cazzo. Ragazzi, ho dovuto riattaccare. Purtroppo. Ragazzi, atterraggio impossibile. Ma ci proviamo lo stesso. Ci proviamo lo stesso. Don't panic. La pista è qui davanti. Qui davanti a noi. Purtroppo. Dobbiamo scendere molto di quota. Siamo a mil piedi. Perfetto. Rialzati, rialzati. Piano, 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 piano. Cazzo, full up. Ragazzi, riattaccata di nuovo. Scusatemi. Eccoci di nuovo, ragazzi. Ci siamo. L'aeroporto è lì. Noi siamo qui. Pronti. Eccoci di nuovo. Grazie.